Nel suo ultimo rapporto la Banca del Mezzogiorno, Medio Credito Centrale, non ha dubbi nell'assegnare il primo posto in Abruzzo ad Intercredit che grazie alla propria rete presente su tutto il territorio regionale diventa il principale intermediario finanziario della regione per garanzie rilasciate sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese abruzzesi. Intercredit ha così superato altri 35 istituti, tra i quali i colossi bancari di dimensioni europee. Ad agosto 2016 sono state infatti 579 le imprese abruzzesi ad usufruire delle garanzie di Intercredit che attraverso la propria certificazione del merito creditizio presso il Medio Credito ha attivato la controgaranzia del Fondo Centrale facendo accogliere ed erogare finanziamenti agevolati per oltre 35 milioni di euro. Un grande aiuto per il tessuto imprenditoriale abruzzese e per il nostro territorio commenta il presidente del gruppo Consoform Intercredit Gianfranco Mancini frutto del costante impegno da parte del nostro Confidi per garantire la nostra avvicinanza alle imprese abruzzesi. Intercredit Confidi si conferma tra le maggiori realtà del mondo della garanzia credit in centro Italia con circa 12.000 imprese socie, 26 milioni di patrimonio, 4.000 imprese garantite e finanziamenti erogati per oltre 100 milioni di euro ogni anno. La nostra garanzia consortile, unita all'impiego dei fondi pubblici, aggiunge il direttore generale Massimo Gramenzi rappresenta un supporto al credito ormai fondamentale per le banche che con maggior facilità accordano i finanziamenti richiesti dalle imprese riconoscendo l'affidabilità e la solidità del nostro Confidi. Grazie 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 Grazie